Può ospitare fino a 300 posti, invece attualmente ne sono occupati solo 102. È l'hotel Michelangelo, il primo albergo milanese messo a disposizione per la quarantena dei soggetti Covid-19 che non hanno situazioni idonee al totale isolamento nel proprio domicilio. Praticamente due stanze su tre che rimangono vuote, nonostante il numero dei contagi a Milano continuino ad aumentare e nonostante più volte sia stato detto dagli esperti che uno dei nuovi problemi in questa fase è il contagio all'interno dei nuclei familiari. A far emergere il problema l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran che si scaglia contro Regione Lombardia colpevole a suo dire di non aver comunicato né mandato in quarantena i pazienti positivi nei luoghi individuati da Palazzo Marino. All'hotel Michelangelo abbiamo aperto il primo spazio dedicato a chi vuole o ha bisogno di fare una quarantena in sicurezza e vive abitualmente in spazi che potrebbero mettere in pericolo familiari e conviventi, commenta l'assessore in una nota. Attualmente ospitiamo 102 persone su quasi 300 posti, in più abbiamo individuato altre 15 strutture idonee che potrebbero essere aperte. Ne ospitiamo 102 perché non ce ne mandano di più e viene da chiedersi se davvero non esiste una domanda superiore. Maran poi si chiede se dei continui nuovi casi positivi che ogni giorno aumentano a Milano, di questi non ce ne sia neanche uno che non rischi di mettere a repentaglio la propria famiglia con una quarantena all'interno della propria abitazione e che non abbia invece bisogno di essere ospitato in strutture dedicate. Chi sono e dove sono i cittadini milanesi positivi al Covid? A loro vengono proposte le strutture per la quarantena? Si chiede l'assessore che se la prende anche con chi accusa il Comune di non stare facendo abbastanza controlli sul territorio. Piantiamola con la demagogia dei controlli che vanno fatti e sono in corso, conclude Maran, e passiamo a una gestione razionale di quella che non è più un'emergenza ma un pezzo di nuova normalità con cui dobbiamo fare i conti. Grazie.